La prima convincente risposta in casa rignanese è arrivata, adesso è davvero il momento di gettare la maschera. Dopo il successo in trasferta, peraltro in rimonta sul Porta Romana, che ha evidenziato anche capacità offensive che esulino dalla coppia d'attacco fino ad oggi risolutrice di tanti problemi, bacini e pagnotta, l'obiettivo della vittoria finale del campionato di eccellenza non può essere smentito. Nonostante i dubbi dell'estate scorsa e quella mancata domanda di ripescaggio in Serie D che avrebbe, come conferma il Ghevizzano, portato allo storico traguardo del palcoscenico nazionale. Tre punti sulle inseguitrici, sì va bene a braccetto con il Grassina, ma un finale di girone di andata non impossibile, anche se passante da due scontri diretti, prima con il Foiano e poi con il Montevarchi, esattamente quest'ultimo al giro di Boa. Intanto domenica c'è il Maliseti, proprio come sa la suscitata Aquila non è un ostacolo da dare per il saltato in partenza, anche se la squadra sembra doversi presentare alla sfida contro la matricola pratese senza particolari problemi di organico.